eccoci back ciao a tutti qui col dave dj and producer oggi vediamo l'intelligenza artificiale come se la cava come production sfrutteremo iudio e il suno vedremo pregi ed effetti e cosa salta fuori let's go sia iudio che il suno si possono accedere tramite l'account gmail senza acquistare particolari crediti possiamo sfruttare e generare già brani dalla durata interessante e procediamo con intanto un'idea di testo sfruttando chat gpt in particolar modo faremo una canzone hit dance dove il protagonista è banana man un eroe mascherato che come superpotere spara banane contro i nemici allora vai chat gpt generami un testo in italiano perché ora vedremo anche chi se la cava meglio tra iudio e suno a creare produrre canzoni ed arrangiarle con il testo il cantato in italiano lui mi spara questa bella lyrics e procediamo intanto su suno siamo su suno alla voce crea custom mode copio incollo il testo e una cosa interessante che vi faccio notare tra suno e audio è il fatto che potete già su suno inserire praticamente tutti i caratteri tutto il testo qui praticamente mi permette di inserire copiare incollare tutto il testo tranne vedo qua che si blocca praticamente verso la fine dove c'è la coda cosa invece diversa è su judio dove il testo che inseriamo è limitato quindi va inserito man mano ma adesso ve lo mostrerò torniamo su suno che è un po' più veloce nel generare i brani soprattutto per questa cosa dell'inserimento del testo personalizzato vado a customizzare il tutto copio incollo le lyrics e lo stile che voglio è techno rave industrial with a pumping bass and kick groove qui posso inserire anche il titolo altrimenti me lo genera lui in automatico qui c'è la versione che è attualmente la 3 ma dovrebbe uscire a breve anche la 4 e vediamo che cavolo mi ha combinato procediamo con la prima versione e vi ricordo che si sia judio che suno ogni volta crea due varianti partiamo con la variante numero 1 generata da suno non è molto techno rave mi ricordo un po' più l'euro dance ma vabbè finalmente nel buio della notte compri tavolite ok la gente lo chiama quando c'è pericolo è l'esponde con il suo water insolito abbiamo il coros ok un po' di crescendo ok ritornello insomma verso 2 procede un po' meglio il ritornello qui dai via ho la metrica banane dorate fa brillare la luce nella città oscura una speranza diffusa vai banana man il nostro eroe mascherato spara banane contro il mare rispettato con un sorriso e uno schiocco allora che dire sì allora che dire diciamo che tutto sommato il testo si amalgama più che bene anche con la metrica ovviamente certo GPT ha fatto un buon lavoro di metrica e struttura quindi l'arrangiamento poi melodico e la struttura anche del ritmica funziona abbastanza anche se non ha quel groove nel ritornello quel diciamo effetto rise pre drop però tutto sommato qualcosa fa sentiamo l'altra versione versione maschile sempre un po' 90's euro dance questo è di troppo potente e galante di troppo ok già meglio insomma la gente lo chiama quando c'è pericolo e lui risponde con il suo toro insolito banana per il nostro eroe mascherato spara banane contro il mare rispettato sembra più un pre drop più che il ritornello chorus ok qua il drop strumentale qua magari scaricandola poi su logic o su un altro software si potrebbe magari prendere le lyrics banana man qua sul ritornello vai banana man yeah o per mai banana man si dai è simpatico perché riesce a creare comunque dei brani quasi da sigla cartone animato euro dance 90 molto diciamo quasi kitsch manca un po' di enfasi comunque nella struttura diciamo la verità non so se è dovuto al fatto che stiamo usando l'italiano o meno o alla descrizione perché comunque la descrizione è abbastanza chiara techno rave industrial ma qua siamo su una dance euro dance abbastanza soft che non segue neanche tanto la costruzione quindi del del ritornello del chorus andando su audio la cosa che ho notato è che con l'italiano non ci siamo proprio cioè non non riesce a generare pur avendo il testo in metrica o comunque in rima non riesce a creare delle delle canzoni fatte bene in italiano il prompt qui è techno raving duster song with a pumping bass and king groove anche qui lo stesso poi lui in automatico si è preso questi sottogeneri per creare la parte instrumental ci permette purtroppo di inserire quando andiamo in my creation e creiamo un nuovo brano andiamo qua sulle lyrics e io copio incollo le lyrics sostanzialmente non posso a differenza di su no copiare troppo testo nel senso che lui ha una limitazione di caratteri massimo 350 il che prevede di tempistiche più lunghe nel creare e allungare il brano questo è un po' un problema perché ad esempio qui posso generare appunto solo il verso primo verso e nemmeno riesco a terminare il il pre ritornello comunque maschera gialla è stato dato il titolo in automatico da judio e questa è la prima generazione con l'intro al verso 1 andiamo in play in una città d'ombra e mistero c'è un eroe dal cuore vero mio dio ricky raro con la maschera gialla e bellante c'è franchino anche ragazzi vieni chi è chiamato banana man potente galante magia nel buio cazzo cazzo qua giangolo e bass la gente lo chiama quando c'è il pericolo e lui risponde con il suo dono ok ha fatto un po' di pasticcio apparentemente gli piace lo stile italiano di franchino ricky l'erroi proviamo a sentire maschera eclissi in una città d'ombra e mistero c'è un eroe dal cuore vero con una maschera gialla e brillante viene chiamato banana un potente galante nel buio della notte corre veloce si chiama con coraggio e fermezza la gente lo chiama quando c'è pericolo e lui risponde il suo dono insolito qua ha generato dell'instrumental diciamo che rispetta un po' meglio il prompt effettivamente è più techno rave cioè non riesce a mettere in musica in battuta e rispettare la metrica correttamente in italiano piace lo stile parlato alla franchino vabbè con tanto love e a differenza di suno che comunque cavolo cioè ha fatto un lavoro molto superiore molto superiore in questo quindi prima cosa che vedo è il fatto che suno funziona meglio per quanto riguarda il testo italiano seconda cosa suno è più immediato perché permette di inserire fin da subito praticamente tutto il testo della struttura del brano a differenza di Udio Udio riesce invece a generare molto meglio quello che concerne la parte audio rispettando molto di più il prompt rispettando soprattutto i tag che vengono definiti durante la creazione del brano è molto più complesso invece gestire la parte delle lyrics customizzate in quanto ha una limitazione di tot caratteri e quindi bisogna ogni volta estendere e aggiungere le parti al brano comunque entrambi sono molto interessanti non so se riusciranno a sostituire ovviamente un producer o comunque una produzione fatta con i canoni umani quindi di mood di costruzione del pezzo di enfasi sicuramente possono dare una gran mano per buttare giù una bozza di idea e poi ad esempio estripolare gli stem e quindi estrapolarsi ad esempio la parte ritmica del kick del basso o anche delle voci e poi ricreare il brano con il proprio stile sfruttando molto meglio la propria do quindi in logic ad esempio e ricostruire il pezzo in maniera più umana diciamo per questo video è tutto nel prossimo video proveremo a generare un brano da zero con tema tom rider utilizzando udio 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 e se il video vi è piaciuto lasciate un commento un bel pollicione like iscrivetevi al canale ovviamente ditemi la vostra sostituiranno i producer sostituiranno le produzioni fatte bene con i canoni queste intelligenze artificiali dovremmo gettare nel cestino le varie do logic pro tools fl studio e chi ne ha più ne metta non dimentichiamoci ovviamente di ableton live da dev è tutto un salutone alla grande sempre grande musica into the groove yeah yeah iscrivetevi all